direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Oggi martedì 11 giugno il jackpot ha raggiunto la cifra di 166 milioni 942 mila 641 euro in più alto al mondo. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 70. Inizio il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. E in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 46. Siamo al secondo numero. Con Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 36. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 25. 25. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 58. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 48. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 16. Dopo i sei numeri che segnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly di questa sera è il numero 73. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 46. 36. 25. 58. 48. 16. Numero jolly 73. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. pronti? Il numero superstar di questa sera è il numero 15. Ricontrolliamo tutti i numeri strati del concorso numero 70 in ordine crescente. 16 25 36 46 48 58 numero jolly 73 superstar 15. L'estrazione di oggi martedì 11 giugno termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate. Ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 166 milioni e 900 mila euro, il più alto al mondo, è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 70. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del super enalotto assegna 397 mila 122 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 166 milioni e 900 mila euro, il più alto al mondo. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 168 milioni e 100 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 69.770 euro ciascuno. I 4 sono 485 e vincono 447 euro ciascuno. I 3 sono 20.282 e vincono 31 euro ciascuno. I 2 sono 332.904 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state segnate ben 14.681 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 3 e vincono 44.742 euro ciascuno. I 3 stella sono 114 e vincono 3.183 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.634 due stella. 10 euro vanno ai 12.352 uno stella. 5 euro vanno ai 29.345 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 13 giugno. Giocheremo per un jackpot di 168 milioni 100 mila euro. Arrivederci. Grazie.